Ciao Cristina! Ciao Elisa, di cosa parliamo oggi? Parliamo di social network. Va bene, dimmi la differenza tra la pagina aziendale e il profilo professionale privato. Ah, allora, è una bella differenza nel senso che noi siamo professionisti, quindi possiamo avere sicuramente sia una pagina privata che un profilo professionale e quindi una pagina dedicata all'azienda. Però non è detto che sia profittevole averla entrambe o avere solo una o avere solo l'altra. Ma quindi quali consigli daresti per Facebook ad esempio? Allora, Facebook è un social network dove potremmo essere presenti con le nostre foto in spiaggia ma potremmo anche essere presenti con degli articoli interessanti, delle ultime semplice. Ecco che il mio consiglio per Facebook è avere una pagina personale dove pubblichiamo le nostre uscite e invece una pagina, un account aziendale. Ti ricordo però che non è che possiamo pubblicare le persone fanno il collegamento tra una pagina professionale e quella personale, quindi non è che io presterei sempre attenzione a quello che scriviamo soprattutto nella nostra pagina personale. E per LinkedIn invece avresti dei consigli? LinkedIn è completamente diverso. LinkedIn è fatto solo da professionisti, quindi si presuppone che tu sia tu anche senza avere una pagina professionale. Quindi il mio consiglio per LinkedIn è avere solo un profilo personale, a meno che ovviamente tu non faccia parte di un studio associato e allora sei assimilabile ad un'azienda. Quindi attenzione perché ogni cosa è diversa. Ti anticipo, mi chiedo, starei pensando anche a Instagram. Anche, sì. Instagram vale, è molto emozionale, quindi vale sempre, il mio consiglio è di essere voi persone. Attenzione che qui, un po' come Facebook, magari non troppe vacanze, costume, aperitivi, e a lungo se vogliamo chiusarla professionalmente. Bene, grazie. Alla prossima!